dunque non devo dimenticare nulla la foto con il mio grande amico john holmes ce l'ho messa divisa che ci ho poi girati i cannoni del salingrato ce l'ho messa bambola confiabile a doppio ritmo devo controllare la barbola di sfiato perché rimane un po rigida ce l'ho messa eccola che mi stavo a scordare vedi il calco delle palle del gesso delle palle di gesso si che ci ho girato delle belle statuine foto del giovane divisa dei cannoni del salingrato la bambola confiabile il calco delle palle del gesso ci sta tutto a si frega ma i dati a scanzi arriviamo noi i santanas lo sai no vicino a noi sei in cinese perciò veniamo noi dei santanas veniamo